buongiorno dal palazzo della cultura questa mattina in merita alla settimana della letteratura italiana con tema dante l'italiano leonardo cinelli ci legge dal canto ventrentaquattresimo dell'inferno le terzine dal 133 a 136 lo duca e io per quel cammino ascuoso entrammo a ritornar nel piano mondo e senza cura d'alcun riposo salimmo su e il primo e io secondo tanto chi vidi delle cose belle che porta al cell per un pertugio tondo e quindi uscimmo a rivedere le stelle grazie